Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati con i nostri gamberetti per un nuovo episodio verso la conquista dei playoff il minimo che quest'anno possiamo cercare di raggiungere sono i playoff signori detto questo prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che dà da questa serie e a tutto il canale vi ricordo di seguirmi su Instagram dove mi trovate come maullo941 dove tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che usciranno sul canale e sulle live che andiamo a fare sia su questa piattaforma che su quella viola dove mi trovate sempre come maullo941 detto questo signori non perdiamo tempo e partiamo con i nostri gamberetti che devono risalire la classifica signori, siamo troppo indietro ok signori, allora andiamo avanti qua con le giornate, si si fai simulazione veloce, fai quello che vuoi, andiamo avanti questi allenamenti fatti così sono più spesso rispetto all'anno scorso, però sono anche un po' più pesanti un po' più, rottore di scatole più che pesanti, rottore di scatole, però va bene, però andiamo avanti prossima partita, campionato signori, campionato, allora vediamo un attimino la squadra come è combinata giardino di agorra, wielding, osallivan, mellor, lavel, gibson, elstad, va bene, andiamo in campo così signori la squadra che ha pareggiato l'ultima, l'ultima volta nel campionato, contro, ora siamo contro il Chaltenam Town contro il Chaltenam Town, che ce fa ma noi siamo fuori casa, dai signori, dai signori, dai signori, 3 a 0 bello così, pulito, pulito, gol di Mellor, Price e wielding, buono così, buono così, mi piace, mi è piaciuto, mi è piaciuto va bene, va bene, bello così, un 3 a 0 pulito, pulito, non ho visto le sostituzioni però va bene tre punti importanti, iniziamo col botto, iniziamo questo appuntamento con il botto, bello così, bello così simulazione veloce, fai quello che vuoi, tanto comunque si stanno allenando, l'importante è questo andiamo avanti ancora al calendario, siamo quindi a fine mese, buono, buono, siamo a fine mese siamo a fine mese, ciò significa, si simula, dovrei fare l'ultimo esercizio ma, li devo fare tutti per fare l'ultimo esercizio non c'ho voglia, non c'ho voglia, lo farò signori, lo farò, in questo momento non mi va per nulla andiamo avanti, andiamo avanti, dicevo siamo a fine mese, quindi dovrebbe tra un poco arrivare il mister lento vuole giocare, mister lento vuole giocare signori, come cazzo lo facciamo giocare a mister lento ci penserò, ci penserò, sto attraversando, non ho ancora scelto, ok, ha preso la risposta è un po' lento nella reazione, la formazione è questa, la formazione è questa e mi sta bene al massimo mister lento ce lo portiamo al posto di Son Go, dai, ci portiamo mister lento al posto di Son Go così vediamo se riesce a entrare anche lui in campo, si, memorizza la formazione vediamo se il nostro secondo darà spazio a mister lento oppure no, noi adesso non possiamo più cavoleggiare ecco, diciamo così, non possiamo più cavoleggiare signori, perché siamo in una posizione di classifica interessante contro il Crowley, contro il Crowley Town, che c'è famo? 1-0, bello così, gol di Mellor, allora, è entrato Pringles per Giardino, al Stockholm per Aladino e mister lento per le Smith, grande, grande che è entrato anche mister lento, così non si arrabbia grande il nostro secondo che l'ha fatto entrare, dai così, dai così, dai così, i nostri gamberetti stanno risalendo i nostri gamberetti stanno risalendo, i nostri gamberetti stanno, Kanon vuole giocare di più ma non sai titolare, Kanon? Ma che vuoi? reso conto, ah, aspettate, sono arrivati gli osservatori, sono arrivati gli osservatori allora, intanto vedi a vedere chi è che parla qua Kanon, il centrocampista, il tuo posto di squadra non è a rischio, stai tranquillo zio rilassa, ti fatti una camomilla e non ti preoccupare credo che avrei potuto fare meglio nella partita con la squadra, ma la ringrazio per avermi concesso questa chance non prendertela, stai tranquillo, easy, busy, lemo, squeeze, anche tu, fatti una camomilla e state tutti più tranquilli, vediamo i nostri osservatori che ci hanno portato, signori allora, Darl'Irlanda, Christopher Sullivan, questo penso sia il fratello di quello di là 15 anni, potenziale da 43 a 57 potenziale da 54 a 70 Sullivan mio, no, vatti a fare una cura per i capelli no, 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 niente Enda Nugent 49 a 67, opero prioso Michelle Discoll 57 a 79, no Idam Hennessy Hennessy 16 anni questo lo osserviamo, signori, anche se non mi, non mi, non mi trasmette fiducia Cannon Fellan 54 a 74 mmm, no, no, mi ispira fiducia James Mullen 60 a 80, no, assolutamente Luke Peek 44 a 62, no ci teniamo solamente questo Hennessy Hennessy, che magari forse potrebbe tornarci utile ma poca roba andiamo a vedere dall'Inghilterra cosa ci ha portato il nostro osservatore Ugo Scott Ugo Scott non sembreresti male, male, male ingaggiamolo, dai, signori diamoli fiducia diamo fiducia a Ugo Scott vediamo cosa ci racconta David Dean David Dean David Dean David Dean mmm, no, no, no non mi trasmetti niente Teddy Walters 68 84 lo continuiamo ad osservare capiamo giusto dove gioca Ewan Wade 62, 78 questo perché l'ho tenuto? ma che mi serve questo? 15 anni eeeh no no, via Elliot Bourne 58, 70 ma sto trovando delle ciofeche terribili Max Hayward 61, 85 ma lasciamolo lì Archie Greaves 66, 90 ma lasciamolo ma sto trovando delle ciofeche terribili speravo di trovare giocatori più interessanti invece proprio ciofeche su ciofeche vediamo quell'attaccante che ci siamo portati a casa se magari è qualcosa di interessante eeeh un AT Adam Scott e un 53 madonna mia mamma mia con un potenziale da 75 89 vabbè lasciamolo lì c'ho 16 anni cresci giovane cresci e poi vedremo speriamo che non sia il nuovo The Rock che ci ha illuso tanto l'anno scorso e poi si è rivelato essere una ciofeca terribile allora andiamo avanti si fai tutte le simulazioni che vuoi simula tutto bravo va se là si stanno allenando bene i nostri giovani si penso che stanno comunque anche crescendo bene speriamo speriamo io ancora sto discorso degli allenamenti non è che l'abbia capito benissimo l'anno scorso era molto più più diretto più dire più facile diciamo quest'anno con queste modifiche che hanno fatto agli allenamenti sono un po' più confuso che altro allora andiamoci a giocare la partita di coppa in FA Cup coppa di FA Cup noi avevamo un obiettivo come FA Cup signori scusatemi metà classifica ingaggio di ottieni 10 vittori in questa stagione già le abbiamo fatte ottimo questo è fatto questo è fatto raggiungi gli ottavi di finale raggiungi gli ottavi di finale ok va bene si può fare si può fare vediamo cosa cosa ne esce da questa da questa da questa partita quando è la prossima la prossima è molto vicina non me la fa vedere ma noi andiamo a vedere vabbè giochiamocela così signori è un obiettivo la FA Cup è un obiettivo raggiungere gli ottavi di finale simuliamo tutto simuliamo dai 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 che c'è famo che c'è famo pareggiamo e quindi ci sarà il ritorno va bene va bene va bene va bene allora giochiamoci l'ultima partita che dovrebbe essere di coppa se non sbaglio se riesce a caricare si c'è famo allora andiamo avanti siamo attualmente sesti in classifica 29 punti a parità tutti di classifi di partite giocate 17 partite giocate 29 punti non siamo messi male certo riuscire a raggiungere i playoff in questa stagione è tanta roba tanta roba dai ho sbagliato tasto si simula tutto fai vai fai quello che vuoi simula simula dai dai vai 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 zio vai zio abbiamo la prossima partita in campionato contro chi sono quelli non l'ho mai visto quel simbolo c'era l'anno scorso ma non mi ricordo non mi ricordo dai così partita di campionato contro loro gate loro gate no non c'erano l'anno scorso questi aspettate c'era kanon che si lamentava ieri quindi facciamo giocare kanon a posto di diagurara prima che si lamenta ancora di più anche se non sa giocare lì però va bene diamogli questa questa chance diamogli questa chance chi siamo noi per non dargli questa chance andiamo su principale e dai così vai 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 zio vai zio vai zio vai zio vai zio dai 3 punti oggi contro questi sconosciuti sarebbero manna dal cielo signori vediamo se ci riusciamo vediamo se ci riusciamo 3 2 1 1 a 1 dai ma che schifo vantaggio loro con muldon e pareggio noi con aladino va bene 1 a 1 meglio che una sconfitta meglio un punto che niente va bene signori detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per il like per i commenti per i suoi genitori e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella daga ciao ciao